Si ritorna a parlare in città di cultura, si ritorna a parlare in città di manifestazioni ed attività culturali, immaginate, programmate, tre giornate per incontrare forze attive e proattive del territorio cittadino. Sì, credo che sia un inizio importante quello di ascoltare le associazioni del territorio, come tutti sanno ci sarà il ritorno alla festa dei quattro altari, ma questi incontri sono dedicati invece principalmente a una programmazione che l'amministrazione comunale metterà in campo, a cui io sto lavorando come direzione artistica per tutto il 2024. Allora è importante ascoltare le associazioni, abbiamo organizzato tre incontri tematici, il primo dedicato al teatro il 22, il settore invece musica e danza lo incontreremo il 23 e il 2 maggio invece incontreremo, anzi un invito che lo faccio anche attraverso i vostri canali, a tutte le associazioni giovanili ma anche ai giovani che sono più difficili da intercettare perché quest'anno il Comunità del Greco organizzerà per la prima volta un festival dedicato ai giovani e quindi vogliamo incontrarli anche per renderli parte attiva dell'organizzazione. Il direttore artistico già ha immaginato una intelaiatura, già la trama generale di quelle che possono essere le maggiori attività da sviluppare fino al prossimo dicembre? Sì, c'è un palinsesto che sottoporò l'amministrazione comunale che tra l'altro fa parte dell'incarico che mi è stato dato, elaborare una progettazione artistica che riguarderà, non posso ancora dirlo, ma riguarderà soprattutto la gran parte innovazioni, cioè la città deve dodarsi di forme d'arte, espressioni, momenti di aggregazione ma anche momenti di approfondimento di quello che non c'è stato per tutti gli anni, da tanti anni in questa città. Quindi e soprattutto ci sarà anche una geografia dei luoghi in cui faremo cultura, ci saranno dei contenitori per tutte le fasce, per tutte le generazioni, quindi ci sarà una programmazione spalmata diciamo in una maniera differente rispetto semplicemente ai punti di un intrattenimento o con certi spot. La linea che voglio dare, e col sindaco siamo d'accordo, è dare continuità alle iniziative, quindi creare opportunità che si rinnovino nel tempo e negli anni. Si può avere qualche anticipazione, qualche momento clou o qualche innovazione, una per tutte e una su tutte? Ma certamente il Festival dei Giovani è una cosa importante a cui puntiamo molto, ma il ritorno del cinema all'aperto, il ritorno della musica classica, il ritorno di una stagione teatrale fatta da professionisti di livello nazionale e vale altre cose che stanno in piedi diciamo in un contesto che è un mosaico di iniziative e di proposte. Quello che sottolineo è che l'ascolto, perciò è stata denominata la cultura dell'ascolto, è reciproco, cioè è importante che io possa ascoltare tutte le associazioni, ma che anche le associazioni ascoltano le linee di indirizzo che noi daremo, con dei bandi precisi, in cui cercheremo soprattutto di creare anche relazioni tra loro, cioè saranno premiate proposte che mettono insieme la multidisciplinarietà e soprattutto la ricerca di spazi alternativi dove fare proposte di spettacoli.